Covadis Italia, che cosa voi di DLA Piper come studio legale vedete sul mercato immobiliare italiano? Si sta muovendo qualcosa? In che direzione? Beh, anzitutto mi nasce dire che questo evento è stato organizzato dal nostro studio, in particolare da Olaf Schmidt, in modo a mio avviso veramente interessante. È riuscito a mettere assieme i principali attori del mondo degli investimenti immobiliari italiani, affrontando in modo multidisciplinare tutti gli oggetti, gli argomenti che interessano gli investimenti immobiliari. L'evento è stato organizzato in una prima sezione, una general session, con un panel composto da investitori internazionali, che ha trasmesso segnali di vera positività rispetto al mercato italiano. La volontà di investire in Italia è con una connotazione particolarmente favorevole rispetto alle difficoltà del mercato. È stato detto, se è un mercato difficile, ancora un po' poco trasparente, con della normativa farraginosa, vuol dire che noi che siamo bravi a investire possiamo ottenere dei risultati maggiori degli altri che guardano l'Italia da lontano. Quindi un mercato che può dare delle sorprese, dei rendimenti interessanti, si è affrontato professionalmente. L'evento si è concentrato su un punto che è la percezione che all'estero il mercato italiano ha in termini non completamente positivi rispetto alla professionalità dei propri attori. Sto parlando dei consulenti, delle imprese di sviluppo, delle banche, degli investitori nazionali, del mercato in genere. La cui professionalità non è vista a livello così alto. È il momento di fare gruppo, di dimostrare agli investitori internazionali che invece il settore c'è, la professionalità esiste, lo sforzo di questo evento era proprio focalizzato su questo. Un'ultima parola, mi tocca e ne ho vero piacere come Presidente di Urban Land Institute per l'Italia. Questa è una di quelle occasioni che l'Istituto cerca il più possibile di sviluppare perché sviluppano cultura dell'immobiliare che è la vera chiave per il successo di qualsiasi attività economica. Una domanda ancora più in dettaglio sul discorso degli investitori stranieri. Quindi questo interesse c'è? Si iniziamo ad investare? Voi come studio legale o come naturalmente come ULI questo lo percepite? Beh sì, come studio decisamente sì. Siamo piuttosto occupati, busy come dicono gli investitori internazionali. Il segno è che all'estero le possibilità di investimento sono diminuite perché il settore così vitale, così effervescente ha già comprato quasi tutto quello che si poteva comprare e restano rendimenti bassi. Nel contempo in Italia i prezzi sono abbastanza scesi, quindi i rendimenti sono saliti. La solidità dell'economia e del Paese in relazione ad altre realtà non è così catastrofica. C'è spazio per investimenti, c'è lavoro da fare e si può essere ottimisti.